La patata bollente della sanità, i DEM invocano le dimissioni di Salta Martini. Caso Soria, variante approvata ma i residenti minacciano il ricorso alle tar. Cavalca Ferrovia, lavori finiti, domani riaprono le quattro corsie. Matteo Ricci e Nebici da Fano a Roma con sguardo alle elezioni europee. VL a Tortona, Vissa a Vercelli, la salvezza sportiva delle pesaresi passa per il Piemonte. Una buona serata telespettatore di Rossini TV e benvenute a questa nuova edizione di Rossini News. Tele giornale di oggi, venerdì 19 aprile, che apriamo parlando nuovamente della sanità pesarese al centro dell'attenzione dopo le doppie dimissioni dei suoi vertici dirigenziali. Ieri abbiamo avuto ospite nei nostri studi il presidente della Commissione Sanità, Nicola Baiocchi, che è intervenuto sulla questione. Oggi invece è arrivato un grido d'allarme dagli esponenti del Partito Democratico. Vediamo. Dopo le doppie dimissioni dei vertici dirigenziali dell'azienda sanitaria territoriale pesarese Nadia Storti ed Edoardo Berselli, il Partito Democratico pesarese lancia un grido d'allarme rivolto alla piega preoccupante presa dalla sanità regionale e invoca una terza dimissione, quella dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Noi chiediamo anche un atto di responsabilità da parte dell'assessore regionale con le dimissioni. E questo per dire che cosa? Per dire che bisogna prendere atto di questa situazione. Non può la giunta regionale, in primis il presidente Acquaroli, fare spallucce, ma bisogna prendere atto. Questa situazione non è normale. Non basta sostituire le persone, bisogna capire che cosa ha prodotto questa disaffezione da parte di dirigenti importanti. Parole che la Fulvi pronuncia all'unisono ai segretari dem di Pesero e Fano, Bellucce e Minardi, riunitisi nella sede della provincia assieme ai consiglieri regionali Michela Vitra e Andrea Biancani. Per quest'ultimo, le dimissioni di Storti e Berselli sono la punta dell'iceberg di una situazione che è il suo peccato originale in una riforma sanitaria che Biancani giudica inapplicabile e che si declina da un atto aziendale che continua a tardare a reparti ospedalieri che non hanno certezza di destinazione, come quelli in uscita dal nosocomio di Muraglia prima della nuova edificazione. Questa doppia dimissione, che è una vera e propria strage di dirigenti, testimonia allo sfacelo che sta subendo la nostra sanità, al punto che nemmeno i tecnici, le persone che ci hanno fatto uscire dalla pandemia, che hanno guidato la sanità nel periodo più devastante che potesse esserci, ora non vogliono metterci più la faccia. Questo la dice davvero lunga. Il rischio è che tutto vada in ritardo, anche i progetti che ci sono, come ad esempio il nuovo ospedale di Pesaro, ma in rischio c'è anche il ritardo dell'atto aziendale, che è quello strumento che definisce che cosa si fa nelle strutture ospedaliere ed è necessario sicuramente avere una definizione in tal senso, perché altrimenti vige lo sbandamento dentro le strutture e quindi lo sbandamento del personale sanitario, che è importante e strategico. E c'è anche un altro dato che oggi dimostra la situazione disperata che sta vivendo la sanità nelle Marche. È uscito ieri infatti il rapporto dell'Istat sui dati delle persone che hanno dovuto rinunciare alle cure mediche nel 2023 pur avendone bisogno. Ecco, in Italia sono state circa il 7,6% della popolazione. Questo dato aumenta nelle Marche fino ad arrivare quasi al 10%. Una situazione a dir poco allarmante, tanto che pone le Marche terz'ultime nella classifica nazionale solo dopo la Sardegna e il Lazio. L'allarme è grande e dico questo perché non è che vogliamo creare tensione nei cittadini, ma bisogna dire la verità, il silenzio è complice e la Regione deve intervenire subito, una volta per tutte. Basta con le campagne elettorali, basta con le promesse. Ricordiamo tutti i piccoli ospedali dell'entroterra che non sono stati assolutamente aperti. Quindi bisogna dare certezze e concretezze, soprattutto un'organizzazione sanitaria seria alla Regione Marche, a tutti i cittadini e in particolare alla provincia di Pesaro Urbino che sembra pagare il prezzo peggiore. E dalla sanità provinciale passiamo ad un Consiglio Comunale che ieri ha approvato la tanto discussa variante urbanistica di Soria fra la disapprovazione dei comitati di residenti che ora minazzano ricorsi. La loro contrarietà l'hanno esternata più riprese fin dentro l'aula del Consiglio Comunale. Dopo la prima sospensiva e modifica della variante su Largo Tremartiri, l'ultimo Consiglio Comunale dell'attuale legislatura ha però approvato la delibera in parte rivisitata che divide l'area pertinente a Largo Tremartiri in quattro comparti edificatori in favore dei soggetti privati coinvolti, ovvero quello che scongiuravano i residenti mobilitati da settimane, che temono un'ulteriore erosione del verde per nuove edificazioni con un ulteriore carico sulla viabilità già complessa della zona. L'approvazione della variante in comune mette il punto a un percorso amministrativo ma non alla mobilitazione dei residenti che hanno avviato una seconda raccolta firme e che si riuniranno di nuovo in assemblea valutando persino un ricorso al TAR. Avremmo preferito, come ha chiesto anche la minoranza, peraltro che sospendessero quantomeno questa variante perché i cittadini hanno parlato, hanno detto, hanno dimostrato che ci sono dei problemi e allora magari la nuova giunta avrebbe potuto ripensare anche tenendo conto di quello che i cittadini di Soria hanno detto. Purtroppo non è stato così, hanno voluto andare all'approvazione definitiva anche se sulla viabilità ovviamente l'hanno modificata completamente il che sta a significare che la prima delibera, quindi la prima scelta diciamo così, non era una scelta appropriata. Noi non riteniamo che sia appropriata neanche l'ultima, naturalmente perché abbiamo sempre detto fin dall'inizio che il grosso problema oltre a quello della viabilità era quello del verde che vediamo qua alle mie spalle, unica zona verde prevista dal piano regolatore come verde e sulla quale hanno tirato una riga per far edificare due privati. Uno degli obbrovri di questa delibera è l'ecomostro che vanno a edificare al posto dell'ex Suzuki, un edificio che parte, partendo dal piano strada, di cinque piani. Adesso le macchine che usciranno da lì, dove andranno? Tutte sul ponte di Portarimini? Oppure andranno direttamente con uscita privilegiata sulla rotatoria? Cioè non ha né capo né coda, fuorché l'interesse dei privati e del comune di fare cassa. Parlando della variante, sembra che debba proseguire la ciclabile che attualmente si interrompe proprio all'altezza delle costruzioni ma se deve proseguire, dove prosegue? Vengono abbattute o si chiude via Caboto o si tagliano gli alberi quindi ancora dio verde del tutto. La realizzazione della ciclabile nella delibera della provincia è condizio sine qua non per tutta la delibera quindi gli alberi vengono giù e la ciclabile dovrà essere fatta non la farà questa amministrazione, poco ma sicuro però la ciclabile dovrà essere fatta quindi meno verde, più asfalto per una città che ha preso come slogan costruire sul costruito è il top E sono finiti i lavori alle cavalca ferrovia peserese che domani riaprirà al transito in quattro corsie un cantiere lungo e tormentato che domani vedrà la bandiera scacchi con una inaugurazione affiancata al sottopassaggio dei cappuccini che tornerà percorribile nella stessa giornata Da lunedì sarà ripristinata anche la viabilità in via Cardinale Massaia e Limitrofe area in cui è stato realizzato un nuovo deposito di biciclette Inaugurazione delle cavalca ferrovia alla quale non potrà essere presente il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in quanto partito per un singolare viaggio in bicicletta Accompagnato da una carovana di ciclisti amatoriali composta da amici e sostenitori il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è partito questa mattina dall'arco di Augusto di Fano per testa alta e pedalare ovvero una biciclettata lungo la vecchia via Flaminia che porterà il coordinatore dei sindaci DEM e presidente di ALI a raggiungere Roma in cinque giorni con tappe di 70 km l'una un viaggio che si inserisce nella candidatura all'elezione europea sulla quale si scioglieranno le riserve probabilmente domenica ma che per Ricci ha anche uno specifico valore simbolico come spiegato dal sindaco allo star della pedalata domenica finalmente si chiudono le liste come sapete ormai da mese ho dato la mia disponibilità per questa corsa però questo viaggio ha intanzitutto un valore tematico perché è un viaggio per ricucire l'Italia abbiamo scelto la vecchia via Flaminia che è stata una delle vie principali che ha collegato Roma con l'Oriente e con l'Europa partendo dall'arco d'Augusto di Fano che è uno dei monumenti, dei reperti storici romani più importanti che abbiamo nel nostro paese perché vogliamo in qualche modo ricucire l'Italia in questo momento si sta discutendo in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia differenziata è un disegno di legge molto pericoloso perché divide un paese già molto diviso dal punto di vista sociale e territoriale e non lo divide solo tra nord e sud ma rischia di dividerlo anche tra centri e periferie e tra coste e aree interne e noi abbiamo un compito in più in questa parte del paese perché noi non solo siamo la cerniera che tiene unita l'Italia ma noi rischiamo anche di più dentro l'autonomia differenziata di essere di nuovo schiacciati da una questione meridionale storica che giustamente verrà difesa e una questione settentrionale che riemerge l'altro tema è il tema della sostenibilità il 2023 si è chiuso con una notizia ghiacciante è stato l'anno più caldo della storia e la risposta non è come sento dire ogni tanto dalla destra negazionista rallentare la transizione ecologica la risposta è accelerare la transizione ecologica l'esatto contrario di quello che stanno dicendo e quindi aver scelto la bicicletta come simbolo è un modo per far diventare la sostenibilità sempre più un elemento della nostra politica e il terzo tema e ne abbiamo fatte tante in passato è anche una biciclettata per la pace perché siamo circondati dalla guerra in Ucraina, in Medio Oriente è un'escalation militare che rischia di aumentare giorno dopo giorno e quindi va rialzata anche con forza la cultura della pace la prima giornata sui pedali ha portato Ricci a Cantiano passando per il furlo perché noi oggi andiamo verso il furlo come prima tappa e avremmo voluto farlo lungo una pista ciclabile invece da anni un dibattito ideologico arretrato su un ritorno di una ferrovia che tutti sanno che non tornerà mai ha bloccato il progetto della pista ciclabile e quindi è anche questo un modo per rilanciare un progetto fondamentale per la vallata del Metauro che poteva essere già realizzato esattamente come la ciclabile trapeso refano ma per una visione miope della mobilità e un po' nostalgica è ancora ferma al palo è una delle tante promesse mancate della Regione Marche e quindi tappa dopo tappa metteremo a fuoco anche i vari problemi dei luoghi specifici che andremo a visitare I carabinieri di Gabicemara hanno arrestato per spazio di stupefacenti un 32enne extracomunitario irregolare sulle territorio nazionale dopo aver ricevuto informazioni sulla presenza di un giovane che con atteggiamento sospetto si recave in un campo agricolo della zona anche in orari piuttosto insoliti i carabinieri hanno predisposto dei servizi di osservazione cogliendo sulle fatte il 32enne che si chinava per occultare qualcosa nel terreno l'uomo è stato sorpreso in possesso di barattoli nei quali c'erano 32 grammi di cocaina già confezionati in dosi pronte per l'accessione la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare materiale per taglio pesature e confezionamento dello stupefacente oltre a 1500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato e il Tribunale di Pesaro lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e continuiamo la nostra marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative di giugno andando a Cagli dove il sindaco Alberto Alessandri si candida per un terzo mandato vediamo col gruppo abbiamo deciso di riproporre Alessandri e Alberto come sindaco di Cagli e ne sono orgoglioso sono felice anche perché sono stati questi 5 anni sapete tutti senza ripetere il covid l'alluvione anni abbastanza difficili abbiamo tanti progetti in piedi che vorremmo portare a conclusione ma soprattutto vorremmo che ecco fosse ormai istituzionalizzato questo modo che abbiamo portato di fare amministrazione con la gente parlando con la gente cercando soluzioni che a qualcuno fanno sicuramente male ma fanno bene alla maggior parte dell'altra gente ma soprattutto che porteranno Cagli ad avere un futuro un futuro guardando a nuovi posti di lavoro a nuove prospettive a vedendo una Cagli che ha tanto ma che deve entrare in un circuito turistico che produca poi sviluppo culturale che produca poi sviluppo economico che crea quindi posti di lavoro questo è il nostro obiettivo lo stiamo portando avanti pezzettino per pezzettino sappiamo che qualsiasi passaggio culturale ha bisogno di tempo e quindi questi 5 anni mi farebbero comodo per mettere un altro tassello importante a quello che deve essere Cagli dei prossimi 100 anni e dalla politica di Cagli passiamo a quella di Pesaro dove Emanuele Gambini consigliere comunale uscente della lista Prima Cepesaro aderisce alla Lega come mostra questa foto in compagnia di Silvana Ghiretti segretaria della Lega di Pesaro che alle prossime elezioni amministrative potrà contare anche sulle candidature dei consiglieri uscenti Dario Andreolli Andrea Marchionni e Nicoletta Rossi e domenica 21 aprile alle ore 11.30 nell'ex scuola di Santa Marina Alta si celebra il trentesimo compleanno del Parco San Bartolo era infatti l'aprile del 1994 quando il Consiglio regionale delle Marche approvò la legge per l'istituzione e la gestione delle aree protette e naturali un incontro conviviale in cui saranno ricordati i momenti salienti grazie alla partecipazione dei protagonisti di questi sei lustri di storia a cominciare da Nadia Regnoli prima presidente dell'ente parco che ne racconterà le origini il luogo dell'incontro sarà il punto di arrivo di due trekking organizzati per l'occasione e compie 60 anni le premie delle circole della stampa riconoscimento destinato ai pesaresi di nascita ad adozione di origini e onorari che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale, scientifico, imprenditoriale, culturale e sportivo a ricevere il riconoscimento 2024 mercoledì 19 giugno all'auditorium di Palazzo Montagnantaldi saranno l'attrice e soprano Anna Maria Alberghetti il biologo Marco Andreani l'astrofisica e l'area Pascucci la top manager di Amazon Valeria Pascucci il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini Tiranni e i visili delle fuoco di Pesaro aspettano bambini e ragazzi domenica pomeriggio alle parco Miralfiore in occasione di Pompieropoli diventa per un giorno un piccolo pompiere una manifestazione con percorsi ludici ed educativi rivolta a tutti i ragazzi della città per promuovere l'attività dei visili delle fuoco e i comportamenti utili per la sicurezza attraverso divertenti simulazioni l'iniziativa è organizzata dalla Montesi Volley in occasione del sessantesimo anniversario della società palavolistica pesarese nata proprio come gruppo sportivo interno ai visili del fuoco un prestigioso riconoscimento per Fulvio Urbinelli l'organizzazione non governativa noi ONG Amor con statuto consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell'ONU ha nominato l'imprenditore pesarese Urbinelli membro del Consiglio di Amministrazione consigliere personale del Presidente fondatore per le questioni di energia alimentazione e invenzioni la nomina è stata certificata in Svizzera al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra e domenica 21 aprile sarà una giornata all'insegna della camminata di solidarietà un appuntamento del Lions Club Pesaro Ost a sostegno della lotta alle discriminazioni di genere è una camminata di solidarietà che abbiamo organizzato per sostenere l'associazione Percorso Donna e per presentare che sarà lo spin-off di un progetto del Festival Incontri che sarà a Pesaro dall'8 al 12 di maggio noi come Lions Class non possiamo che appoggiare il progetto di Percorso Donna che è da sempre nato per educare le persone contro la violenza di genere ancora ad oggi i dati sui femminicidi sono ancora agghiaccianti noi ci impegniamo il nostro impegno sarà per sempre per far sì che questi dati un giorno possano arrivare a zero l'evento sarà ci vediamo domenica alle 10 alla Palla di Pomodoro in Piazzale della Libertà ci saranno due gruppi si partirà verso il Lungomare verso Fano con suddivisi in due gruppi il primo gruppo un po' più blando arriverà fino più o meno a Bagni Gelsi per poi tornare alla Palla di Pomodoro il secondo gruppo per i più sportivi arriverà fino a Bagni Itaca più o meno per poi tornare indietro ci sarà un banchetto dove verranno distribuiti dei gadget e delle sacche a ricordo di questa iniziativa con un'offerta minima di 5 euro e l'intero ricavato di questa manifestazione verrà devoluto a favore dell'Associazione Percorso Donna e il 23 di aprile in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini il coro filarmonico omaggio al grande compositore con un concerto al Teatro Rossini vediamo Giacomo Immortale uno spettacolo promosso dal coro filarmonico Rossini di Pesaro lo possiamo vedere al Teatro Rossini martedì 23 aprile all'Euro 21 questo spettacolo appunto per celebrare l'anniversario del centenario della morte del maestro sarà appunto un connubio tra prosa e lirica dove le principali arie tratte dai principali cori tratte dalle maggiori opere del maestro come Turandot Tosca Butterfly saranno inframmezzate dalla parte dalla prosa in cui ci sarà anche la vita del maestro quindi la parte umana del maestro non solo quella artistica quindi aspettiamo tutto il pubblico per questo nuovo spettacolo sicuramente entusiasmante martedì 23 aprile al Teatro Rossini di Pesaro all'Euro 21 Ed è stata presentata questa mattina presso la Lega Navale di Pesaro la 38esima edizione della regata sulla rotta dei Trabaccoli da Pesaro a Pola appuntamento organizzato dalla stessa Lega che da quasi 40 anni unisce Marche e Istria attraverso la vela nelle ponte del primo maggio la novità già introdotta un anno fa è la manche unica da Pesaro a Pola prevista per il 2 maggio con partenza alle ore 16 tra le novità anche la prodo da Pola nel porto di Pesaro già dalle 27 aprile di un'antica barca in legno del 1902 e concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport e ricordandovi gli appuntamenti del weekend ottenute per la prima volta in stagione due vittorie consecutive la UL ha bisogno di continuare a vincere per tenere vivi le sue speranze di salvezza e ci proverà domani alle ore 19 in casa della Bertram Tortona nelle calcio a 5 domani impegno in trasferta alle ore 18 per l'Ital Service sul campo dell'Active Network Viterbo una vittoria significherebbe matematica prodo ai playoff lunga trasferta a Vercelli invece per la Vise Pesaro che domenica alle 16.30 affronti le Sestri in Levante un'eventuale vittoria e repriebbe anche le possibilità ad oggi remote di evitare i playoff domenica alle 15.30 trasferta a Veneta per la Fiorini Pesaro Rugby che affronta Paese per provare ad archiviare il discorso salvezza e con queste ultime notizie di sport termina qua questa edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti in onda sul nostro canale 80 a cominciare subito dopo questa edizione del nostro telegiornale con la natura della cultura magazine il magazine di approfondimento su Pesaro 2024 capitale italiana della cultura che va in onda tutti i lunedì mercoledì e venerdì alle ore 8 alle 13 e alle 20 questa sera potremo vedere appunto l'approfondimento della giornata e vi ricordiamo anche il riassunto della settimana sabato alle 12 e alle 19 domenica alle 15 e alle 21 prima serata invece che alle 21 e 20 sarà dedicata alla Bici Pulitana di Pesaro un viaggio alla scoperta di questa meraviglia di tantissimi chilometri che appunto potremo ammirare nello speciale condotto da Paolo Pagnini e vi ricordo anche l'appuntamento con la nostra rassegna stampa domani mattina alle ore 7 e 20 in diretta così come sul nostro canale 80 anche sul nostro sito sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra app e le repliche 8 e 20 12 e 20 14 e 20 18 e 20 domani mattina lo potete vedere ci sarà il nostro sorridente Antonio Astuti ed è davvero tutto io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana